Poi direi Erasmus che è un attaccante da 69, nooo non è stato comprato pure lui, mannaggia Non lo posso acquistare, vero? Mannaggia a te, abbiamo perso troppo tempo Togliamo Erasmus, Goobs, ci sono novità su Goobs E un giocatore nel... vabbè aspettiamo, per Goobs aspettiamo E poi fra Furman e Lewis direi andare a prendere... no Furman è stato acquistato pure, mannaggia Che mercato pieno di colpi a vuoto, Furman l'abbiamo perso pure, mannaggia Allora togliamo un Furman e prendiamo Lewis, un 61, contatto per acquistare, non è questo granché Però dico, andiamoci a prendere Furman, andiamoci a prendere Furman Su di loro noi costruiremo il nostro esercito di gamberetti, signori miei, il nostro esercito di gamberetti Allora, importante Dico che ti va bene, magnifico, perfetto Forse vogliamo dargli anche turnover Quattro anni di contratto, va bene Quattro anni di contratto e il nostro Papa Maullo gli vanno bene Papa Maullo ignora Lui vuole la clausola recessoria Ehm... nega clausola recessoria No Avanti con la trattata Meno male Ehm... chi ha questo aspetto Lui ne prende... Teneto... 2,5 2,5 con bonus d'ingaggio di 10.000 Penso che ti piaccia, no? Ci siamo? Mi sembra un offertego Ma forse gli ho dato pure troppo Vabbè, vabbè Dai, meglio di niente Meglio di niente Allora Il nostro bellissimo Aspettiamo notizie su Goobles 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 Il nostro bellissimo esercito di gamberetti, signori miei Prende forma E migliore Allora In attacco abbiamo un 62 e un 63 Perfetto Poi abbiamo Tonev 67 Weeding Kanon E Sullivan 65 Baxon Old Sutton E Crashton Crashton 61 Rocher Si va a fare un giro Ed entra l'innominabile Che è un 69 Poi abbiamo Allora A posto di Oldstown Mettiamo il nostro portiere Rocher Poi abbiamo Delev Che è più forte di Sullivan Quindi Ciao Sullivan Mettiamo Delev E poi penso che non possiamo fare altro Perché non abbiamo giocatori Degni di nota Abbiamo una formazione lunghissima Sistemiamo solamente Come esterno destro Ci portiamo lui E poi Raga Non abbiamo Niente da fare Abbiamo Lewis Che è quello che abbiamo Comprato Che è un 61 Tutte è un 60 Leviamo Barrett Che è brutto Che è brutto come pochi Io direi che possiamo Anderci a levare anche Berwitt Holstead Il portiere Bacaré Inguardabile Bacaré Bacaré Inguardabile Allora Andiamo un attimino Puoi salvare Si salva Modifichiamo un attimino Vediamo un attimino Se possiamo mettere qualcuno Sul mercato E Allora Allora Direi Lui se ne può andare È stato un piacere Aggiungi a lista Trasferimenti Poi abbiamo Due esterni sinistri Devo rimanere Quelli che sono In difesa abbiamo Old Satton Boulou Bacaré Allora Bacaré Già è sul mercato Lavelle Quindi ci daremo Uno Due Tre E quattro Va bene Baxton Ci manca un esterno destro Va bene Dovremmo lavorare su quello Poi abbiamo Kanon Brewitt È sul mercato Tone Hosted Ed Ellison Va bene Ellison Lì lo butterei fuori Quanti anni C'ha 40 anni Mamma mia Wilding Se non riusciamo a venderlo Entro il fine del mercato Cosa difficilissima Perché si ritira Al fine del fine del stagione Lo buttiamo via Lo buttiamo fuori Praticamente Poi abbiamo Wilding Diagara Diagura Non so come si dice Tutte Lui si è appena arrivato Poi Delev Sullivan Tutte Ne può andare via Bravo Bravo Ma te ne può andare via E poi in attacca abbiamo Leite Smith Stockholm Howard E Slew Mamma mia Gentaglia Allora Contratti Scadenza Io ti metto sul mercato Howard Mi dispiace Avrai anche un bel sorriso Stare migliorando Ma sei inguardabile 19 anni Sei completamente Inguardabile Dovremmo anche fare un discorso Di Di Come si chiama Di Contratti Ma questo me li vedo io dopo con calma Raga Contratti me li vedo dopo io con calma Mister apprezzo la sua La sua Bla 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 Ne va a parlare Con Tizio Mi sto guardando intorno Boh Sono felice che abbia deciso di cedermi Addio Così diretto Forse fin troppo Cosa mi stanno a dire Suggerendo per la scelta del capitano Non ci interessa Raga Come voi ben sapete Noi simuliamo tutte le partite Di questa stagione Che dovremo arrivare Alla qualificazione In Champions Raga Non so quanto durerà questa carriera Ma le dobbiamo simulare Tutte Quindi Pronti signori miei I nostri gamberetti All'esordio In campionato di League 2 Dai gamberetti Prima partita di campionato Parte la simulazione Contro il Grimsby Aia Mamma mia E la prima L'abbiamo persa Sostituiti Ha sostituito Canyon Wilding E Diagura Per Stockholm E Lewis E O Sullivan Va bene Partiamo malissimo Raga Partiamo malissimo Prima partita Andata male Va bene Va bene Facciamo gli allenamenti Giochiamoci anche la seconda Raga Giochiamoci anche la seconda Sono Dovevo fare Dovevo cambiare Un attimino Gli allenamenti Per vedere se Quelli che abbiamo comprato C'è qualcuno Che può migliorare Che sono un po' Che vuole All stand Che problemi hai Zio Voglio dire Sono proprio Circo sul mio conto Ci penserò Non vedrai più il campo Nemmeno Col binocolo Forse da casa tua Guardando la televisione Potrai vedere il campo Però Che è successo Offerta per il trasferimento Per Conlan Conlan Ma è in vendita Conlan Sul mercato Conlan è in vendita Non è in vendita Conlan Ma sei brutto forte E' un TS E' un TS E' un TS Collan No 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 Devo rifiutare Raga TS Ne abbiamo due contati TS Ne abbiamo due contati E non lo posso vendere Anche perché Non sapere chi Andrà a comprare Ma proprio minimamente Riusciamo a giocare La seconda Di campionato Dai 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 Il Bayer La squadra Le Perguson Ha accettato l'offerta Non so perché Mondes Gomez Mondes Gomez Sei sul mercato Mondes Gomez Sì Mondes Gomez Dovrebbe essere sul mercato Quindi possiamo andare A lavorare Su questa offerta Andiamo a trattare Lui vale 170 Mi stanno offrendo 180 Andiamo a trattare Magari 200 Dai Magari gli spiccioli Per la benzina Per portartelo lì Dai Sì Vi datevi la mano Tutto quello che vuoi Allora Basta che ci hanno i soldi Rinegozia Per il cartellino Allora Spariamo alto Lui vale 170 C'ha 20 anni E 250 Male che vada Dai raga La trattiamo No La trattiamo Non dove si bruca E la nostra ultima offerta Mi dispiace 180 Con la clausola All'1% Ma di che stai a parlare Allora Contro offerta Rimuovi la clausola Recessoria Rinegozia offerta 200 Dai Sono sceso Sono sceso Vediamoci a metà strada Sono sceso anche di tanto Oh Oh Dai Dai 200 L'abbiamo piazzato Buono 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 Ci siamo fatti dare Un po' di più rispetto a quanto A quanto volevano A quanto volevano pagarlo Dai Speriamo che accetti Il trasferimento E arrivano 200 Nella cassa Nelle nostre casse Nelle nostre casse Va bene ragazzoli Andiamoci a giocare l'altra partita Andiamoci a giocare l'altra partita Altra offerta Per il trasferimento 185 No 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 L'abbiamo già accettata No invece raga Facciamo così Per questo video Ci fermiamo qui Continuiamo Prossimamente Così lascio la suspense Della seconda di campionato E del mercato Che si sta forse iniziando a muovere Forse qualche soldino Riusciamo a metterlo a parte Per un altro osservatore Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Lasciatemi suggerimenti sotto E noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao